ciao a tutti bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su un nuovo gioco multiplayer cooperativo siamo in quattro il gioco è gtf o siamo in compagnia di cicci pupazzo buonasera gameplay channel a tutti e delirio ciao 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 ve li ho detti in ordine così come li vedete nella lobby che cosa si fa in questo gioco non ne abbiamo propriamente idea dobbiamo recuperare sei hard disk all'interno di un ambiente un gioco che mixa generi quali alien un genere oro sparatutto insomma e all'inizio vedete possiamo scegliere queste armi lo proveremo un gioco estremamente cooperativo e andiamo a vedere inizieremoci medesimiamo adesso ci cambiamo cambiamo ma cosa consigliate machine gun no qual è l'altra per vedere da lontano i nemici bio tracker la terza la terza alla terza nel terzo slot il bio tracker ok io invece ho il form che è quello della mondo il mind deployer è quel che lancia le mine potrei prendere quella dovrebbe essere utile e infatti lì non ci abbiamo messo molto abbiamo due quindi gameplay channel e delirio che hanno il bio tracker ma sì vabbè è uguale dai tanto cominciamo vabbè qua abbiamo il video iniziale vogliamo vederlo così almeno facciamo vedere cosa succede che poi testualmente il gioco significa vattene via ecco quindi è già un programma e vista la difficoltà dire che ci hanno azzeccato stai pronunciando giusto get the fuck out ecco la pronuncia giù gtfo ragazzi anche voi qua allora l'obiettivo sarà quello di recuperare il 6 hard disk avremo diverse console di comando che potremmo usare in gioco per pingare magari le varie porte vari componenti e poi si avanzerà di livello in livello scenderemo non so se in profondità o andando avanti dalla stanza a stanza 6 hard drive sì le mappe sono bene o male quelle anche le missioni ci sono varie missioni da affrontare ricorda per certi aspetti anche deep rock galactic se non che è un gioco molto più cattivo ok olè andiamo col batticarne adesso è libero qua ah prima nella partita prima c'era un sacco di gente qui ecco 4 contatti davanti 5 davanti a noi in quella direzione allora machine gun mind deployer ah oddio lancia granate vabbè lancia mine anzi vabbè comunque la particolarità la mappa vedete potete disegnare con gli altri e dire adesso entriamo in questa porta e gli altri vedono il disegno e man mano vedete che si sblocca man mano i compagni o voi stessi esplorate gli smile scompaiono subito purtroppo bisogna essere rapidi e sopra la testa di ognuno dei vostri compagni vedete il suo livello di vita e i colpi che hanno in percentuale delle tre armi scelte e abbiamo otto a otto e qua c'è un bel posto vedete che lui scansiona col suo fucile che è un fucile all'alien dove vede la presenza di nemici dove sono la porta laterale ce n'è qua qua e un anche di là si fa il giro volendo ce n'è anche una laterale dove tra l'altro visto che ci sono meno nemici mi sa che gli si fa il giro ok ne abbiamo due qua davanti a noi si dietro questa porta proviamo a farla stealth si questa si io sto indietro con la pistola casomai supera vado? siamo tutti qua? no si si non li vedo ah ok li vedo 4 4 io sto basso eccolo lo vedo una lo vedo 4 ah vuoi far vedere questo armadietto qua richiede il giochino quello tic tac tic tac quale? se vuoi farlo qua sopra sopra ah prima di eliminare loro? eh no eliminiamo loro perché se sbaglio e suona vengono tutti qua ok poi lo facciamo vedere provo col primo stealth si vada vada non cincischi diretto eh no perché l'ho visto che quello di prima ne hai mancato sono due eh lì? sono due mira la testa eh carica il colpo carica il colpo ok ok morto ok il secondo è già in piedi ma è di spalle si provo attenzione si è addormentato eh non muore questo però al primo colpo io ho visto che l'hai mancato si ecco no in realtà a me ha dato che l'ho preso ah ok ok occhio occhio dietro 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 cioè ho già perso 24 per cento di vita ma sparano anche sti cosi si ok morto ok libero si ok apro eh vi faccio vedere questo giochino qui qui in cui dovete bloccare sul blu se sbagliate emette un bip e ripartite da capo ok ce l'ho fatta al primo colpo cosa c'è dentro? uh ehm fog a repell la prendo io la prendete voi dai questo qua è un repellente da nebbia cioè lo piazzate per terra e oppure lo no credo che lo usate perché è una ventola lo impugnate e fa via la nebbia ok adesso riprendiamo la mappa e vediamo abbiamo una porta qui e una porta qui sì qua c'è anche il terminale ok il terminale vi permette usando ricorda molto Star Citizen questo terminale qua cioè per come è fatto insomma poi dentro dovete scrivere a mano command commands vi da tutti i comandi potete andare a vedere scrivendo list i vari elementi che ci sono all'interno qua vedete che ci sono un sacco di porte un sacco di ehm porte di sicurezza se fate list eh ah ok sta andando avanti perché c'è veramente vedete tutto le bulk add key potete andare non sappiamo ancora come fare però vedete le bulk add key sono delle chiavi che aprono delle porte di sicurezza quindi potete andare a pingare quella chiave e vi dice se è su quel piano eh bisogna imparare un pochino a potete anche scrivere list bulk add add elabora e mi dice che ce ne sono tre ehm io dico ehm facciamo la prova ping bulk add ehm trattino basso key trattino basso 8 4 6 e mi fa il ping ma in realtà time out quindi non è qui evidentemente va bene va bene niente come l'ho detto siete già andati via tutti no ehm io ho trovato qua delle risorse se volete venire ho un medikit se può servire ma ce l'avevamo perso prima sì c'era un'armadetto qua infatti stavo facendo un po' in giro dove sono io ovviamente il mio senso dell'orientamento è qua il medikit l'ho già preso qua c'è il refill pack io sono al 100% quindi non ho bisogno io sono 76 se vuoi che uso su di te il medikit ce l'ho dai dai perché anch'io sono pieno quindi ma aspetta vedete sugli altri 100 100 76 anche ciccio eh ok aspetta che te lo uso ogni colpo da 20 ok dai quanti colpi ha il medikit 3? 2? 3 credo 2 3 3 3 ne ha ah sì 3 3 è vero vero sì sì ok ok qualcuno vuole un po' di repack di armi qualcosa ma le rialza tutte? non lo so dove sei? dove sei? sei lì? qua per te io ho 55 49 90 ci dovrei aver rifillato di qualcosa di tool? no refill pack non hai cambiato nulla? no no 55 49 90 lo rifaccio ma hai alzato il mine deployer del 10% ok vabbè lo proviamo magari dopo quando c'è una porta con tanti mostri davanti aspetta prova un po' il fog e vabbè che non lo buttiamo eh però insomma c'è eccolo qua vediamo se funziona no si guarda qua ah sì ah sì che bello però la porta è da questa eh sì la porta è qua ha il lucchetto ok ok contatto dietro la porta subito dietro quanti? per adesso uno però ne ho intravisto un altro ma non so se provare il mine deployer eh scusate eh lo butto qua davanti ah no eh no ma non non so come funziona ah place trip mine premier ok eccola lì quindi la potresti mettere anche lateralmente magari in maniera da fare un raggio in orizzontale così aspetta cioè sul muro anziché sul pavimento sul muro è una mina quella sì sì no mi sa di no riesco a metterla qui ok vabbè ok bisogna aprire aspettare che escano vediamo cosa succede chi è che ha messo hai visto che lo puoi fare anche sul muro? no l'ho messa per sbaglio ovvio ok posso riprenderla senza farmela esplodere in faccia ok allora a 135 gradi il primo ehm 135 il secondo 30 gradi a sinistra eh ste qua le riprendono alla mia sinistra 2 alla mia sinistra 2 alla mia sinistra 2 ah uno è qua uno è qua a destra scanner ne vedo uno ok questo provo a ucciderlo aspettate provo a ucciderlo cacchio sei svegliato ma visto ne sono due qua in effetti arrivano gli altri testa ok è andato questo è grosso questo è andato questo è grosso torna indietro che c'è le mine così non passare tu tra le mine colpito alla testa ok vediamo vediamo se arriva vai 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 no lasciatelo passare è passato ma tra le mine minchia mi ha sparato una linguata si ho visto ma mi ha baciato proprio ma è morto si ah ok vabbè oh ste mine io le riprendo si ma ha tirato via 24% non devono diventare verdi per attivarsi no ma lui è passato di fiacca adesso no no gli è proprio passato in mezzo si andava verso orizzontale esatto sul muro e allora gli è inesperienza poi è libero si è già dimenticato le sue nottate in Vietnam ah 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 si qualcuno con la spirala eh 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 dov'è? no vabbè ma non serve tanto c'è nessuno c'è la mappa c'è una porta qua c'è una porta qua dietro qua ce ne sono almeno almeno cinque ok adesso non mi faccio trovare impreparato aspetta che metto la mina eh ma non riesco eh ma non riesco non mi da il verde per piazzarla mettila più qua tipo no? cioè qua si ma sulla parete no? e sul soffitto si no 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 solo sul pavimento beh ascolta mettine tre vicine eh esatto ah eh ok ah passate in mezzo aspettate eh no ma non esplodono eh si no con noi non esplodono no no con noi no vada però mi consuma un botto di mine deployer le munizioni anche se le recupero mi sa che sono tanti qua eh attenzione sono dietro questa porta ma sono tantissime due quattro sei almeno nove qua le mine piazzale davanti a questa porta qua no? no eh no qua non ne vedo sono tutte alla porta dietro alla porta qua sono tantissime ah ma ok le munizioni me le ridà ok allora metto le mine allora pronti dove? qui? eh prova adesso qua sulla parete della porta a vedere se te le fa mettere in orizzontale eh ma dove? sul cornicione tipo qua all'interno o qua sulla colonna li attendiamo qua ok vediamo se me lo fa mettere si qui va bene esatto un po' più in basso ma anche perché questi strisciano vorrei che ci passano sotto eh ma no no me la fa mettere qui ok ok quella va benissimo e poi? ci sono due salite qua una qua e una di là metto una qui e una di qua e una di qua allora qui va bene così? si ok mi ha notato adesso ci arrivano tutti da dietro vada vada ok dobbiamo stare qua dentro eh qua abbiamo lo scandalo ah appena aperta poi andiamo indietro si apre subito se non ci fa il giochetto di prima ok no ok bene via subito indietro eh no è molto aperto prova a tirarli Mirko a tirali ah alleluia ok ho già messo un po' mi ha preso in giro sono tutti qua giù ma spariamo due colpi eh uno è qua eh l'ho seccato ecco li e bene, funziona al suo perch'è ahia son ferito? beh, beh ok! beh, è andata meglio puoi recuperare una mina fate controllare ok sembra pulito Una mina si è salvata Ne ho ancora 7 E' pulito Qua ci vorreva il dissipatore E poi con la nebbia non serve neanche la torcia Perché non si vede niente Ah un'arma dietro qua Apre Hard drive Eccolo qua uno l'abbiamo trovato Uno di sei l'abbiamo preso Ok Guarda questi qua Si potranno attivare per far via tutta la nebbia Vabbè queste ventole qua Magari tramite console Eh si è un discorso che va approfondito Quello delle console No qui non è utilizzabile Ah c'è una porta qua Contatto davanti a noi Dove c'è la porta? A nord proprio E' proprio da appena apri ce l'abbiamo subito in faccia Granatina? E' mina cioè Ma se sono pochi Se è uno no Ma ce n'è solo uno Io ne vedo solo uno Ok No niente dai Martello Sì sì è super Sì col martello Eccolo Uno col martello Ok Mirko è l'assassino Il nostro assassino Ma non era molto No no Stavolta l'ho preso pieno eh E' perché alcuni mi sa che non muoiono Con un colpo solo Eh si vede se qualcosa qua E ho finito gli antinebbia Eh immaginavo Ma di sopra non c'è più nebbia No nemici non ce n'è Ah no uno Ok uno salendo No tre Qua dietro la porta Ah sì sì Quattro quattro Cinque Cinque Mine Sei Ok Qua sì Ma qua o dietro la porta? Dietro la porta? No non proprio dietro la porta Sì dietro la porta ma un po' spostati avanti Quindi non vicinissimi Quindi Dove la metto? Ho trovato un hard disk? Sì Un grande Ottimo Allora dove le metto? Le metto qui Una Che poi secondo me non sono neanche stupidi E cercano di evitarle se le vedono Io ho chiarato una porta qua dietro Se volete Qua funziona il terminale Sì e non c'è nessuno Qua funziona anche il terminale C'è qualche hard disk Alla fine poi però Non c'è nessuno ma arriva nella stanza dove dobbiamo parire dopo Col corridoio qui Sì E la porta è questa Esatto Qua serve Questa si apre una volta che abbiamo abbassato il livello di minaccia della zona Ancaedo E andiamo nella zona dopo E quindi dobbiamo tornare Dobbiamo tornare di là Ok I contatti sono davanti a me Tanti contatti E quindi dietro Quello di prima Questa qua E dove siamo mostro Cassetta Hard disk Hard disk Perfetto Siamo già a metà Altra cassetta ragazzi Altra cassetta con lucchetto da spaccare Questo resta un samo pack Si può usare due volte Vai piglialo Ah io ce l'ho già Prendetelo voi Perché io ho ancora un 20% di un medikit Ok Ma questa Chi lo vuole Chi ha bisogno di energia No no io sono a 90 Io ne faccio uno a me Poi ne posso dare uno a qualche No 90 Ma scusate un secondo Ma io non è che io qua Apro la porta E infatti Ah riprendi le mine Sì Esatto Non erano vicini Ho trovato un fogge repeller ancora Se serve Ottimo Come sei a munizione Mirko 48 e 37 E te le do Vieni qua Credo bisogna andare di qua Adesso Sì Qua c'è qualcuno Metto le bombe Martello Sì è pieno 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 Allora sono sei Ditemi quando è che io vado di martello È andato di martello Ho ventante lucchette Allora la metto una qua E una qua Direi bassa 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 Questi strisciano Allora la metto qui Tech Posso togliere questa E la metto qui Ecco sì A protezione qua Qui? Sì perché noi saliamo qua Sulle scale No Sul mobiletto qua Da qua che guarda in là Scusa dove? Ce la fa? Qua Su questa parete qua Che guarda in là Ok Così Tagliare tutte Esatto Tutte le Anche dall'altra parte Così almeno Abbiamo la copertura Così Ok dai E una qua Scusa cos'è che era Esatto Così fa il perimetro Ok Guarda cosa ho messo Che cos'è? Una torretta Eh Aspetta che Ah Ma dove l'hai prese? È la terza arma Che ci possiamo inventare Noi espertoni del gioco Aspetta Aspetta Settila davanti così Eh ma infatti Le usavano tutti nei video Ho detto Noi poi magari siamo pivellini Qui sono tantissimi Attenzione adesso Eh non è che esplode con la mina? No 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 Dovrebbe In teoria non dovrebbe Però se nessuno apre Qua rimaniamo la sera Guarda la porta Siamo fino a domani Eccoli Eccolo là Beh se possiamo Già un colpetto Glielo diamo da qui no? A sparare sì Fatto Ok Uno l'ho ucciso E non sta svegliato nessuno Dove sono tutti? Non è che sono dietro Quell'ulteriore porta lì No no Non lo sono qui a destra Aspetta Ce n'è uno su Occhio Occhio arrivano Sono attivati Via 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 Vai torretta Fatti onore Eccola E là 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 Occhio che passano Ah no ok È morto Poi è cattivissima la torsia Con parsimonia I colpi Mamma mia Non sa che va ricaricata Poi di colpi Perfetta 423 ne ha Ok libera No Riprendo le mine Dietro la porta qua sono Allora Appariamo e scappiamo ancora dietro Aspetta Aspetta Ho un altro fogge repeller ancora Ce n'è uno qua Io sono pieno se lo volete prendere Ce n'è uno qua Vediamo Così Tengo Ok Ah proprio così Allora facciamo una cosa Metto la granata qua Giusto per Qua è dove ci ha fatto spostare prima Quando Prima lo scanner qua E poi i quattro pallini rossi erano di qua Ok Quindi probabilmente dobbiamo fare anche adesso così Eh sì Noi due corriamo in questi due pallini Che uno era qua Prima abbiamo fatto uno scanner qua E che è finito questo E' apparso Quattro pallini Che dovevamo andare in piedi Nei quattro punti Due erano di là E due sono qua Ah ok E due sono qua dentro Sì Ah C'è lo scanner anche qua da fare? Sì sì C'è da attivare Quindi io ciccio Chi è Tutti qua E poi cerchiamo i punti rossi Sì esatto Qua no No Qua dietro Da dietro Da dietro Entrati Entrati Occhio occhio Via 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 La torretta è al contrario Questo è grosso Porca miseria Vabbè Ho capito che Ok è andato Ok Ci sono Ci sono le security Da Da metase Occhio Ok sono a terra o anch'io ma quante sono questi ci hanno fregato proprio le spalle oddio sono a terra e anch'io alle spalle ci hanno fregato stavolta e niente è finita esattamente come è finita prima però diciamo che è stata interessante perché abbiamo visto un pochino abbiamo iniziato a scoprire un pochino le features del gioco non è un gioco per tutti di sicuro non costa neanche poco su steam da quanto visto però è sicuramente una bella sfida non è banale come magari non sono altri giochi detto questo io niente chiudo qui ragazzi fateci sapere se volete un altro video soprattutto poi magari c'è la possibilità di vedere delle live di fare delle live con mirko fateci sapere appunto un commento qua sotto e alla prossima vi saluto ciao ciao ciao